Come va? Ciao Francesca, sto provando. Sì, giusto di questo volevo parlarti. Sì, dai, parla. Promettimi che non ti arrabbierai. No, perché dovrei arrabbiarmi? Dai, dimmi. Bene, vediamo. Io so bene, anzi perfettamente, quanto difficile può essere apprendere una nuova lingua. Capisci? E quando ho iniziato a studiare lo spagnolo, te l'ho raccontato che avevo una professoressa dell'Europa dell'Est che aveva un accento molto marcato e buffissimo. Avanti, cosa vuoi dirmi? Meglio che non ti dica niente come non detto. Piantala, ti ho detto che non mi arrabbierò. Dovresti studiare l'inglese. La tua pronuncia è... la mia pronuncia è... Spaventosa. No, spaventosa no, orribile. No, nemmeno... Non pronunci bene. Ecco. Lo sapevo che ti saresti arrabbiata, ma qualcuno doveva dirtelo, Camilla, mi dispiace. Mi stai dicendo che devo studiare l'inglese? Sai cosa penso? Che vuoi rubarmi il posto, Francesca? Tu vuoi cantare col tuo fidanzato e con la mia band. Che? Tu sei uguale a Ludmilla, se non peggio. Sì, forse anche peggio. Non me lo aspettavo da te. Ma no, Camilla!